Immaginatevi una capsula piena di persone, la mettete dentro un tubo, togliete l'aria dal tubo così non c'è attrito e a questo punto potete muovere la capsula dal punto A al punto B a quasi la velocità del suono utilizzando una piccola frazione di energia. Sembra fantascienza, invece l'abbiamo costruito, abbiamo un prototipo a Tolosa e ora stiamo realizzando uno a 10 km di scala reale. Si chiama Hyperloop ed è il treno supersonico che dovrebbe permettere di coprire in pochi minuti centinaia di chilometri, a presentarlo al Circo L'Artistico di Arezzo il presidente Bipop Gresta fondatore dell'americana Hyperloop TT e CEO di Hyperloop Italia, un progetto nato da un'idea di Elon Musk. Quindi l'abbiamo chiamato e gli abbiamo detto che lo vogliamo fare noi Hyperloop, visto che lui aveva detto che non lo avrebbe fatto. Lui ha dato l'ok e abbiamo fondato Hyperloop TT che in 8 anni è diventata la più grande società di sviluppo di Hyperloop nel mondo. Considerato a livello internazionale un esperto di mobilità avanzata e tecnologie della quarta rivoluzione industriale, Gabriele Gresta conosce molto bene la città, ha infatti frequentato l'istituto tecnico commerciale Buonarroti all'epoca ragioneria dove ha fatto ritorno in questa visita in terra retina. Arezzo l'ho nel cuore, io ho passato la mia gioventù, i miei studi, io credo di aver costruito quello che ho costruito grazie anche all'esperienza che ho avuto ad Arezzo perché sia dal punto di vista artistico che imprenditoriale ho imparato tutto qui. Il progetto dell'aveniristico treno supersonico è stato rilanciato adesso dal governatore del Veneto. Mi ha chiamato il Veneto per realizzare la prima linea al mondo di Hyperloop con un bando che hanno emesso di 800 milioni. Abbiamo partecipato alla gara con Leonardo, WeBuild e la mia americana e poi la società che ho fondato in Italia per appunto realizzare il primo Hyperloop. Quindi nelle prossime settimane si apriranno le buste, vedremo se abbiamo vinto questo bando e inizieremo a costruire il primo Hyperloop della storia in Veneto. Grazie a tutti.